Doveva essere una domenica come tante, in sella alla sua moto con la quale amava viaggiare per le strade siciliane. Un viaggio che purtroppo si è interrotto troppo presto, ad appena 23 anni. Un destino crudele ha strappato la vita al giovane Filippo Milone di Barcellona Pozzurigotto, una nuova tragedia che colpisce le strade siciliane. Il ragazzo ha perso la vita ieri mentre si trovava in sella alla sua moto, una Yamaha, stava percorrendo la strada provinciale che collega Messina a Catania per arrivare a Moio Alcantara dove avrebbe raggiunto i suoi amici per passare una giornata in compagnia. Arrivato nei pressi di Malvagna però qualcosa è andato storto. Filippo avrebbe perso il controllo del mezzo andando a finire contro il guardrail ai margini della strada. L'impatto è stato devastante, per il ragazzo nonostante il pronto arrivo dei soccorsi purtroppo non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. I medici del 118 non hanno potuto far altro che constatarne la morte. Per i primi rilievi sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Taormina che hanno chiuso al transito per diverse ore la strada provinciale. Sgomento e commozione nella comunità di Porto Salvo di Barcellona Pozzurigotto dove il giovane era residente. Filippo era molto conosciuto per la sua bontà e gentilezza. Impegnato nel sociale dopo gli studi aveva iniziato a lavorare nell'attività di famiglia per aiutare il padre e lo zio. Una giovane vita spenta troppo presto. Purtroppo quello che ha portato alla morte di Filippo Milone non è l'unico incidente tragico in Sicilia nelle ultime ore. A Custonacci nel Trapanese, per l'esattezza lungo la strada provinciale 16, uno scontro tra due auto ha provocato ben sei vittime e una ferita grave.